Il pellegrino, il turista, l'appassionato di natura, ma anche lo sportivo e semplice cittadino desideroso di una gita fuori porta. Sono loro i principali destinatari dell'app mobile web gratuita Osi delle Pievi, nuovo strumento che rientra nell'ambito del progetto di Lenservice Onlus e WWF Parma, pensato per scoprire una parte di quel patrimonio culturale e ambientale spesso poco frequentato della provincia e tante volte sconosciuto anche agli stessi parmigiani. La presentazione è nella sede dell'Oxac alla Abbazia di Val Serena. L'obiettivo è quindi quello di creare uno strumento che da un lato consenta la conoscenza di questi aspetti culturali territorio parmense e che sia però anche utile per poter poi visitare il luogo. Quindi da un lato informazioni e utilità, dall'altro lato informazioni, chiamiamole, esperienziali. La storia, gli aneddoti, gli itinerari legati alle pievi, alle osi naturalistiche del parmense, questo ci sarà sull'app mobile web con foto e testi ma anche podcast suggestive riprese aeree e contenuti multimediali in realtà aumentate a 360 gradi. Sullo sfondo l'appuntamento con Parma 2020 ma anche un modo diverso per vivere un territorio rispettando nell'ambiente. La sensibilità sta sicuramente crescendo, dopodiché la vera sostenibilità è molto difficile farla solo in chiave ambientale. Mi viene da dire che la sostenibilità o è anche sociale, culturale, infrastrutturale eccetera, ma non è una questione solo ambientale. Questo secondo me è il passo che dobbiamo fare tutti quando pensiamo alla sostenibilità, inclusi i fruitori di questi luoghi. Lo strumento sarà a disposizione anche degli uffici turistici parmense con il progetto sostenuto grazie al fondamentale contributo economico di Fondazione Cari Parma.